Bene, signori, potete disporvi a semicerchio. Intanto vi diamo il benvenuto a questo evento particolare che abbiamo organizzato noi dell'Associazione Riattivati. Io mi presento, sono Edoardo e sarò la vostra guida per questo evento in compagnia di Marco Cappelli, l'autore del podcast Storia d'Italia, nonché scrittore del libro Per un pugno di barbari, che oggi vi andremo a presentare. Vi parleremo di Roma e soprattutto del rapporto che ha legato Roma a questa città. Anzitutto grazie per essere venuti. Parliamo, adesso facciamo un salto di parecchi secoli, perché andiamo nel III secolo d.C., che è il periodo del libro che qualcuno di voi ha in mano. Il III secolo d.C. è il periodo della crisi del III secolo, quindi è la crisi più terribile, perché per la quale passa Roma durante la sua fase imperiale. Ora, ne parleremo ancora di questo periodo, ma oggi vi voglio parlare in questo momento di una fase molto importante che è quella delle Giulie, la dinastia delle Giulie. Se io vi dico la dinastia delle Giulie, probabilmente non vi ricordate, non vi dice nulla. Se vi dico la dinastia dei Severi, qualcuno se la ricorda, della dinastia dei Severi, no? Settimio Severo e poi Caracalla, poi Elio Gabalo, poi Alessandro Severo. Ecco, questa dinastia può essere in realtà ricostruita come una dinastia di donne e vi spiego perché. Settimio Severo sicuramente è il fondatore della dinastia ed è un uomo molto potente. Madre latina, padre di origine africana, berbero punica, quindi un bel misto anche lui. Ma la cosa interessante è che Settimio Severo sposa una principessa siriana di nome Giulia Domna. Giulia Domna è forse la discendente di Antonio Cleopatra, non siamo del tutto sicuri, ma è abbastanza certo ed è la principessa di Emesa. Cos'è Emesa? È una grande città in Siria, molto ricca, con una tradizione tra l'altro di un dio solare, da cui vedremo che poi questa viene fuori abbastanza, questa storia del dio solare, è El Gabal. Sentite anche nel nome come fa molto Medio Oriente, El Gabal. El Gabal, la sua famiglia da sempre sono i re di Emesa e sono anche i sacerdoti, i grandi sacerdoti di El Gabal, ok? Quindi in Settimio Severo abbiamo tre zone dell'impero dove lui ha delle clientele forti, la madre è una nobildonna latina, il padre del Nord Africa e la moglie della Siria. Questo aiuta molto il suo successo politico e anche militare. Ora, sua moglie chiaramente nelle fonti è considerata praticamente una correggente. I titoli della moglie è così importante, così ricca, così esperta in politica, che viene nominata con dei titoli che nessuno prima di lei ha avuto. Madre degli accampamenti, quindi ha un ruolo quasi di protezione dell'esercito. madre del senato e della patria, cioè è un ruolo che potremmo dire quasi imperiale. E infatti quando Settimio Severo muore nel 212 d.C. è Giulia Domna che si mette al centro della successione. Lei ha due figli, i famosi Caracalla e Geta, che non vanno molto d'accordo ed è lei che cerca di gestire entrambi, fallendo la fine perché Caracalla è una personalità molto forte e difficile da controllare. Caracalla ucciderà Geta di fronte alla madre. Adesso noi ci troviamo in questa piazza, nota come piazza San Rufo, che prende il nome dall'omonima chiesa di San Rufo, questa chiesa medievale. Piazza San Rufo detta anche centro d'Italia. Questo perché Rieti si vanta, si freggia di questo titolo millenario di essere il centro d'Italia. Ma noi riatini diciamo questa cosa e c'è una placca, una targa che ce lo ricorda, perché già duemila anni fa si diceva che Rieti fosse l'Umbilicus Italia, come è scritto proprio in questo monumento. Umbilicus Italia è un termine che compare nella letteratura latina già per opera di Marco Terenzio Varrone, un letterato romano vissuto nel primo secolo avanti Cristo, originario di Rieti, infatti viene anche chiamato Varrone Reatino. Nei suoi scritti lui descrive Rieti come Umbilicus Italia, probabilmente cosa che riprende da altri scritti che noi purtroppo non abbiamo. Ma Varrone quando parla di Umbilicus Italia cosa vuole dire? Da una parte stiamo parlando del centro d'Italia come luogo esattamente al centro, perché l'ombelico è quello, come lo è per il nostro corpo. D'altra parte però si attribuisce anche all'ombelico un potere mistico, delle particolari capacità. Varrone fa questa citazione e nel parlare di Umbilicus Italia parla di un luogo specifico che sta qui a Rieti, vicino Rieti, ovvero il lago di Paterno, un lago nei pressi di questa città, vicino Cotilia per l'esattezza, che è una zona termale abbastanza nota, Vespasiano la conosceva benissimo quella zona, dove si pensa che anticamente i sabini svolgessero un rituale, un rituale noto come Versacrum, rituale della primavera sacra. Che cos'era questo rituale? Era un rituale che potremmo definire sacrificale, ma non sacrificale inteso come con prendere persone o animali e sacrificarli, o meglio, i sabini non avevano questa tradizione sanguinaria. Loro, i sacrificati, quello che sacrificavano erano generazioni che venivano allontanate dalle loro città. Era un rituale di allontanamento, ma dettato principalmente dal fatto che spesso capitava che in una città potessero scarseggiare le risorse per il sostentamento, o era sovrappopolata. L'unico modo per garantire la sopravvivenza di tutti era fare in modo che quelle persone si allontanassero, migrassero, andassero magari a fondare città in luoghi nuovi dove c'erano le risorse per poter accrescere e prosperare di nuovo. Questo è un processo che i si portano avanti per secoli, questo delle migrazioni. Noi non sappiamo dare un luogo chiaro di origine dei sabini, forse quello che più si avvicina è una cittadina presente nell'Appennino Abruzzese, Amiternum. Questo è indicato come uno dei primi luoghi di origine dei sabini, che è vicino l'Aquila, Pizzoli più o meno come zona. Probabilmente è da Amiternum che partono i primi rituali migratori dei sabini e secondo molte idee, supposizioni, credenze, è da quelle migrazioni iniziali che si vanno a generare tutta una serie di altre popolazioni, perché alcuni andranno a migrare verso il Piceno, diventando un'altra popolazione, i Piceni o Picenti, come li chiamano alcuni. Altri arriveranno a diventare i Sanniti, migreranno nel Sannio. Altri migreranno nell'attuale Sabina, fondando Riedi. Da Riedi partiranno altre migrazioni che andranno e si avvicineranno verso il Tirreno. Una delle città che nasce così è Cures. Oggi nota, diciamo, presente nei pressi di Passo Corese, la zona di Passo Corese farà Sabina. Cures, che è la città, una delle principali inserimenti che entra in diretto contatto con i Sabini, soprattutto anche nel periodo del Ratto delle Sabine. Da quel punto poi la storia dei Sabini si fonde con quella romana per ciò che vi ho già raccontato e, come vi avevo accennato, molti vanteranno poi in futuro di avere origini Sabine. Ci saranno di tante gens originari di Roma, molte che si definiranno Sabine. Una di queste è la gens Curia, che ha tra i suoi esponenti più importanti Manio Curio Dentato, il console che a un certo punto la riconquista, la Sabina, e la soggetta a Roma. E qui si forma proprio un vero e proprio ciclo, se ci andiamo a pensare, con un inizio e una fine che ritorna sempre in questi luoghi. Ora però lascio la parola a Marco. Sì, io ne approfitto, visto che siamo qui nell'ombelico d'Italia, per parlarvi della geografia dell'Antica Roma. Ora, è più conosciuta la geografia nell'Alto Impero. Augusto ha diviso l'Italia in regioni, ma questa non è la divisione del Tardo Impero. Quindi quello di cui vi voglio parlare, visto che è meno conosciuta, vi parlo della divisione nel Tardo Impero. Allora, innanzitutto, la cosa importante da capire è che l'impero è diviso in quattro prefetture. Delle Gallie, dell'Italia, dell'Oriente e dell'Illirico. Quella dell'Italia comprende non solo l'Italia, ma anche il Nord Africa, la parte dove c'è oggi la Tunisia, perché c'è una relazione diretta economica per il sostegno dell'Italia tra il Nord Africa e l'Italia. Sono considerati complementari. Anche la parte, diciamo, della moderna Svizzera e Germania meridionale fanno parte della prefettura italiana. La prefettura italiana è divisa in tre diocesi. Il termine diocesi, che oggi viene utilizzato ovviamente dalla Chiesa, deriva dalla riforma di Diocleziano, che divide appunto l'impero in diocesi. Le diocesi sono dei gruppi di province. Diocleziano vuole controllare l'impero in modo più stretto, quindi divide le province in province più piccole, però le organizza in diocesi, creando questa struttura intermedia tra la prefettura e la provincia. Mentre l'impero un tempo era diviso in una trentina di province e basta, adesso abbiamo quattro prefetti del pretorio, i vicari a capo delle diocesi. Di nuovo un'altra terminologia che trovate nella Chiesa, i vicari. E poi abbiamo i presidi a capo delle province. Le province dell'Italia sono, allora, due province che non sono più in Italia, sono l'Arezia I e l'Arezia II, praticamente Germania meridionale e Svizzera, per intenderci più o meno. Se entriamo in Italia abbiamo la Venezia e Tistria, con capitale, vediamo se indovinate, qual è la capitale della Venezia e Tistria? Aquileia, ottimo, perfetto, sono bravi, sono sul pezzo. Quindi Aquileia, capo della Venezia e Tistria, il Triveneto, più o meno, tutto il Triveneto. Poi abbiamo la Liguria, secondo voi dov'è la Liguria? Hint, non è in Liguria. Allora, la Liguria equivale più o meno alla Lombardia e al Piemonte, al di sopra del fiume Po. Questa è chiamata Liguria. È strano perché i Liguri, la popolazione antica dei Liguri, invece erano nella moderna Liguria, però la Liguria tardoantica è quella lì, capitale Mediolanum ovviamente. La moderna Liguria e il Piemonte meridionali sono Alpe Scozie, capitale prima Segusium, Susa, Val di Susa, poi Genova. Poi abbiamo l'Emilia, spesso unita con la Liguria, quindi la provincia a volte diventa Liguria et Emilia, capitale Piacenza, praticamente l'attuale Emilia. La Romagna, invece, è Flaminia et Picenum e questa provincia, capitale, è la città più importante della regione, presto diventerà capitale dell'impero d'Occidente, presto, dopo un secolo, e c'è ovviamente Ravenna, in una laguna, perché Ravenna oggi la vedete in mezzo a una pianura, ma era in una laguna, era più simile a Venezia oggi. Scendendo, finalmente arriviamo in Toscana, Tuscia et Umbria, Florenzia, capitale Firenze, e poi abbiamo la provincia della Valeria, la Valeria, Valeria et Sabina anche, chiamata ovviamente, per ovvi ragioni, è un po' l'Abruzzo e il Reatino, che sono unite in una sola provincia, per quello possiamo capire capitale Corfinium, che è nella Val Peligna, una città molto importante, capitale degli Italici durante la guerra sociale, nel primo secolo a.C. Abbiamo anche il Picenum, che è la zona delle Marche, praticamente, Osimo, poi Sagno, con Boviano in Molise, Apulia et Calabria, la Calabria non è la moderna Calabria, la Calabria è il Salento, perché nel Medioevo i bizantini, quando viene, diciamo la terminologia Calabria è medievale, la moderna Calabria si chiama così perché molti dal Salento migrarono, per quello che possiamo capire, in Calabria, nella moderna Calabria, e quindi nel Medioevo iniziò a essere chiamato Calabria, nell'antica Roma veniva chiamato il Bruzio, ok, che è un'altra provincia, e poi abbiamo ovviamente Sardegna, Sicilia, Corsica, questa era la divisione dell'Italia. Un'ultima nota, anzi due ultime note, l'Italia dopo di Ocleziano viene divisa in due diocesi, la diocesi Annonaria, l'Italia del Nord, e la diocesi Suburbicana, perché Annonaria, perché Suburbicana? Annonaria perché l'esercito a difesa dell'Italia era soprattutto nel Nord, capitale di solito Pavia, posto dove si, allora si chiamava Ticinum, Annonaria perché l'Annona erano le tasse che dovevano pagare, diciamo, le province per sostenere l'esercito, quindi Italia Annonaria, Suburbicana, l'Italia centro-meridionale, perché intorno a L'Urbe, quindi inteso che è la parte dell'Italia dove c'è L'Urbe, Roma. Roma in tutta questa organizzazione non faceva parte di nessuna provincia, perché sostanzialmente era un'entità a sé ed era gestita dal Senato insieme con il prefetto dell'Urbe. In questa fase adesso stiamo attraversando questa strada che era parte del Decumanus Maximus di Riedi. Prima stavamo passando per il Cardo, la via Salari anticamente passava per il viadotto che era dove stavamo prima, raggiungeva la piazza centrale dove torneremo poi alla fine del giro e svoltava qui sul Decumano e proseguiva poi verso Antrodogo, Ascoli. Questo era tutto il tragetto della via Salaria. Ci fermiamo qui in particolare perché volevo farvi porre l'attenzione su questo teatro, il teatro di Riedi dedicato a Flavio Vespasiano, perché noi Readini se c'è una cosa di cui ci possiamo vantare particolarmente è quello di aver dato i Natali a una stirpe di imperatori, i Flavi. Vespasiano era un imperatore di origine reatina, nato precisamente a Città Reale ma da una famiglia proprio di Riedi, la Gens Flavia, era originaria di qui. Qui a Riedi c'è anche una via intitolata Via dei Flavi, chi è di Riedi lo sa. L'imperatore Vespasiano ha in questo teatro una serie di opere che ne ritraggono quelle che sono le sue gesta più importanti. Chi di voi è stato dentro al teatro, chi avrà modo di entrarci potrà osservare infatti sulla cupola del teatro il trionfo di Vespasiano e Tito, ovvero la scena proprio del momento in cui Flavio Vespasiano e il figlio Tito pongono fine alla guerra giudaica con la conquista di Gerusalemme e infatti proprio sulla cupola si vedono padre e figlio sul carro con un candelabbro a sette bracci proprio a sottolineare il saccheggio di Gerusalemme. Altra cosa importante, opera che voglio dirvi, il sipario che è stato disegnato da Antonino Calcagna d'Oro, forse il più importante pittore che Riedi ha avuto nella sua storia, che rappresenta proprio la presa di Gerusalemme. E nel parlarvi di Vespasiano poi in realtà voglio lasciare la parola a Marco che ci parlerà proprio dell'imperatore Vespasiano e farà un suo parallelismo con settimio severo. Esatto, perché questi due imperatori all'origine di due dinastie romane hanno una storia abbastanza simile a prima vista, perché entrambi prendono il potere dopo una guerra civile. Vespasiano dopo l'anno dei quattro imperatori, siccome nel terzo secolo c'è l'inflazione, settimo severo dopo l'anno dei cinque imperatori, insomma, sono aumentati un po'. La cosa che secondo me è importante capire è il concetto del mantenimento della legittimità a governare. Quando c'è un passaggio di potere è sempre un passaggio delicato, perché cos'è la legittimità a governare? La legittimità a governare è quella cosa che ci fa convincere che chi ci governa lo fa legittimamente. Sta prendendo le decisioni in quanto governo costituito. Ora, oggi noi lo facciamo con le elezioni, ma uno stato autoritario come l'impero romano, anche i romani lo facevano con le elezioni prima di diventare uno stato autoritario. Quando sono diventati uno stato autoritario come si passa il potere? Ora, fino a quando dominava la dinastia Giorio-Claudia era evidente come passava il potere, bisognava essere della famiglia di Cesare e di Augusto. Ma Vespasiano è il primo che deve gestire un passaggio di potere tra una dinastia e un'altra. In realtà lui prende il potere con la forza delle armi, ma fa un passo indietro immediatamente per far sembrare il tutto un passaggio legittimo. E' il senato che mi ha scelto, non sono stato io che ho preso il potere con le armi. Non solo, c'è quest'area che Nerone aveva sottratto al popolo, la ridò al popolo costruendo il Colosseo. E Vespasiano cerca in tutti i modi di far sembrare quella che è stata una presa brutale del potere, farla sembrare un passaggio legale. E' stato acclamato dal senato, dal popolo, dall'esercito. Ora, la differenza con Settimio Severo è proprio che Settimio Severo va a rompere questa illusione che c'era nell'impero romano che il passaggio di poteri fosse deciso da senato, popolo ed esercito. Quello che lui prende il potere è esattamente nello stesso modo di Vespasiano, con la forza delle armi. Una volta preso il potere però non fa neanche finta di essere stato scelto dal senato e dal popolo di Roma. E' noto che lui disse, insomma è una storia ma probabilmente rispecchia il suo modo di pensare, disse ai figli andate d'accordo, pagate bene i soldati ed infischiatevi di tutti gli altri. Questo è proprio il modo di pensare Settimio Severo che, diciamo, mette tutto, mette l'esercito al centro di ogni decisione. Ora, perché questa cosa è importante? E' importante perché porta dritto alla crisi del terzo secolo, perché se, diciamo, il potere viene definito solo dalla forza, sarà la forza a decidere chi governa. E infatti Settimio Severo e i suoi discendenti possono governare, vengono tutti uccisi tranne Settimio Severo. Quindi già questo vi dice il passaggio. Ma la cosa importante è che Settimio Severo, basando il suo potere su un equilibrio militare, perché lui stabilisce un esercito più forte in Italia che comanda lui, eccetera, questo vuol dire che nel momento in cui questo equilibrio si sposta, chiunque può prendere il potere. Ed è esattamente quello che succederà per 50 anni una volta che, appunto, la dinastia dei Severi si sarà estinta. Diciamo, lo Stato romano non riesce più a ritrovare un modo per passare il potere senza la violenza. E questo porterà alla crisi del terzo secolo. Considerate che noi adesso siamo usciti dalla reate romana, siamo usciti da quello che era il perimetro delle mura romane di Riedi. Ve lo possiamo dire perché noi abbiamo qui proprio dei resti di mura romane. Quello che noi abbiamo qui di fianco, infatti, è un torrione delle antiche mura romane di Riedi. Che cosa è successo alle mura? Ma in molti casi, questo è uno dei casi fortunati dove le mura le abbiamo ancora così, i torrioni sono diventati residenze medievali, palazzi in certi casi. Le mura romane di Riedi sono scomparse quasi del tutto e qui devo dire, c'è il professor Barbero che lo racconta molto bene in un podcast, devo dire. Semplicemente a un certo punto la prosperità della città è arrivata al punto che la città si è espansa, è cresciuta e ha costruito fuori dalle mura. E allora a quel punto, quando le mura di difesa non servono più a difenderti, ma le butti giù, buttiamo giù le mura, ne faremo altre medievali, più in là, per contenere più case, però non è che le mura spariscono in realtà, semplicemente le riutilizzi. I blocchi infatti che abbiamo visto anche prima sono dei ricicli edilizi, sono state utilizzate tutte le mura per mettere le basi degli edifici che ci sono oggi. Ed è così, sono diversi luoghi, qualcosa altro vedremo ancora, dove effettivamente troviamo ancora questi blocchi sparsi per la città, per il centro storico di Rieti. Adesso però Marco ci dirà qualcosa proprio di evoluzione delle fortificazioni, delle difese. Allora, le originali mura delle città romane, come questa, tendenzialmente non avevano dei grandissimi ruoli difensivi, servivano più per delimitare lo spazio urbano. Ora, anche un ruolo difensivo, ma tendenzialmente erano piuttosto basse, non erano particolarmente imponenti, il loro ruolo era quello. Ovviamente potevano resistere a un attacco non particolarmente determinato. Le esigenze cambiano nel tardo impero. Ora, durante tutta l'epoca della Pax romana sostanzialmente le mura sono quasi inutili. Anche spesso le città escono fuori dalle mura. Nel tardo impero ovviamente la situazione peggiora in modo drammatico da un punto di vista della sicurezza, soprattutto a partire dalla crisi del terzo secolo. Durante la crisi del terzo secolo abbiamo le prime grandi invasioni dell'Italia. Quindi vengono costruite delle fortezze, per esempio a difesa delle Alpi, e vengono costruite delle nuove mura tendenzialmente, soprattutto le città in posizioni strategiche, come un esempio classico è Verona, porta d'Italia venendo da nord. Come sono fatte le mura del tardo impero? Sono molto diverse dalle mura repubblicane delle città antiche. Le mura tendono ad essere molto più alte, più spesse e ci sono meno porte. Di nuovo, noi sappiamo appunto che non avevano le mura antiche un ruolo particolarmente forte difensivo perché c'erano tante porte tendenzialmente, che per una difesa militare non ha molto senso. Anche se ci pensate agli accampamenti romani. Gli accampamenti romani tenevano quattro porte. Questo perché erano utilizzati sì in modo difensivo, ma soprattutto anche in modo di difesa attiva. Invece già con Diocleziano abbiamo accampamenti più piccoli, con un solo ingresso, tendenzialmente massimo due, mura più alte e abbiamo anche delle guarnigioni più piccole. Quindi a che cosa assomigliano questi accampamenti? Assomigliano a dei castelli. E questo perché si sono evolute anche le tecnologie. Oltre alle esigenze militari si sono evolute anche le tecnologie. Per esempio i romani utilizzano di più le macchine da guerra sulle mura. Prima le mura quasi non avevano spazio per le macchine da guerra, le mura diciamo repubblicane. Mentre le mura tardo antiche hanno dei torrioni molto ampi sui quali montare delle macchine da guerra per combattere gli attaccanti. Quindi vediamo proprio un'evoluzione che porta verso la tecnologia militare poi del medioevo. Ora che siamo rientrati nella Reate Romana e ritorniamo al discorso che vi ho fatto. Noi ci troviamo nella piazza centrale della Reate Romana, nel foro. Punto di incontro tra il Decumano e il Cardo. Qui era il centro nevralgico della Reate Romana. Qui sotto noi avremmo proprio l'acropoli e scavi sono stati fatti che ce lo certificano. Questo foro, considerate nelle cronache, viene riportato il termine forum fino al VI secolo d.C. Per sottolineare come quanto questo luogo sia rimasto invariato. Le variazioni cominciano nel periodo Longobardo. In realtà si sa pochissimo. Quello che si sa è che durante il periodo Longobardo Longobardo gli edifici, i palazzi cominciano ad occupare, a sottrarre spazio alla piazza fino a ridurne il suolo calpestabile, possiamo dire. Nell'Alto Medioevo poi invece si andrà a sviluppare un sistema di tre piazze. Avremo questa piazza che diventa la piazza del mercato. Si svilupperà poi un'altra piazza che si chiamerà Platea de Medio e ci passeremo e ve lo ricorderò questo dettaglio. E una terza piazza che sarà la piazza della Cattedrale. Vedremo poi, succede durante il Medioevo che mentre la Platea de Medio era sede del potere civile, la piazza della Cattedrale simbolo del potere ecclesiastico, col tempo comincerà sempre più a sottolineare come il potere ecclesiastico cresca dentro Rieti a discapito del potere civile ovviamente. E questa piazza, da piazza del Foro, rimane ad essere solo la piazza del mercato quindi diciamo il centro più economico della città di Rieti nell'Alto Medioevo. E proprio parlando di economia ma tornando nel terzo secolo Marco ci parlerà proprio della monetazione e di quello che successe all'epoca. Sì, e dico che prima di parlare di terzo secolo dico che nel Medioevo questa divisione, me l'hai fatto venire in mente, tra piazza del mercato, piazza del potere civile, piazza del potere religioso è abbastanza classica. Allora, torniamo nel terzo secolo. Uno degli argomenti principali del libro è la crisi economica, economica direi quasi la crisi della moneta innanzitutto. Allora, vediamo questo meccanismo. In seguito alla pandemia detta peste Antonina, non è peste, è probabilmente vaiolo, la popolazione si riduce più o meno del 20%. Poi si ridurrà di un altro 20% con la peste di Cipriano, meno conosciuta, che colpisce a metà del terzo secolo. Quindi abbiamo una tragedia di proporzioni in mani ma soprattutto per lo Stato romano una riduzione delle entrate, perché le entrate dipendono soprattutto dall'agricoltura e dalle braccia che coltivano l'agricoltura. Ora, riduzione delle entrate. Allo stesso tempo aumentano le spese per l'esercito. Quindi abbiamo una classica situazione in cui al giorno d'oggi faremmo deficit. Diminiscono le entrate, aumentano le spese, facciamo deficit. C'è un solo piccolo problema. I romani non conoscevano il concetto di deficit e debito pubblico. Quindi loro tendenzialmente non facevano debito. Questa è una cosa che può sembrare oggi fantastica, perché è bello non avere debito, ma in realtà il debito è un sistema per avere una finanza più flessibile, una finanza dello Stato più flessibile. Perché faccio debito, perché oggi sono in una certa situazione, e spero che domani la situazione sarà migliore. I romani non lo potevano fare, però hanno sempre questo problema. Maggiori spese e minori entrate. Come lo risolvono, secondo voi? Vediamo un po'. Come si fa a risolvere questo problema? Sembra irrisolvibile. Ve lo dico io. Si va a ridurre la quantità di metallo prezioso nella moneta, perché se io, mettiamo che io ho una produzione di oro di 100 tonnellate, se riduco l'oro contenuto, in realtà è più l'argento la moneta importante, ma se riduco l'argento nel denarius, posso produrre più monete con la stessa quantità di argento. Ed è questa la soluzione che gli imperatori romani trovano per questo problema. Ora, questo crea però un problema ancora più grande, perché la produzione di più monete, cosa fa? Aumenta la massa monetaria. Se aumentiamo la massa monetaria, ma l'economia non aumenta, anzi è in crisi, cosa succede? Si scatena l'inflazione. Più monete in giro, più inflazione. Classico rapporto economico. I romani non conoscevano neanche l'inflazione, o meglio, sapevano che ovviamente se c'è poco grano i prezzi aumentano, ma non sapevano che anche la moneta ha un prezzo. L'inflazione è la variazione del prezzo della moneta. E quindi si trovano completamente sprovvisti. Anzi, quello che succede è che a un certo punto aumentano i prezzi, e secondo voi cosa fanno i soldati quando aumentano i prezzi? Chiedono di essere pagati di più. E dicono, ma com'è? Mi pagavate 300 denari prima, a me 300 denari non bastano più, me ne servono almeno 450. E ovviamente l'ho stato a questo punto, perché diciamo, avere dei soldati scontenti nuoce gravemente la salute, dell'imperatore soprattutto, testa sulla picca, esatto, nuoce gravemente la salute. Quindi cosa fa l'imperatore? Aumenta la p***a dei soldati, e quindi riduce ancora di più la quantità di metallo prezioso nella moneta, quindi va a aumentare ancora l'inflazione. Ora, il meccanismo, posso darti questo, il meccanismo è anche, a un certo punto, le persone iniziano a notarla questa cosa, quindi aumentano ancora di più i prezzi. Dici, guarda queste monete che mi stai dando, tre monete da reggento, sono un po' più leggere di quelle degli imperatori precedenti. Sai che c'è? Facciamo che il prezzo è un po' di più per te. Allora, questo va a creare un meccanismo inflattivo senza fine. Tanto è vero che nel giro di pochi decenni poi accelera, perché l'inflazione tende ad avvitarsi e ad accelerare anche. Quindi quello che succede è che arriviamo a Gallieno, nel cuore, nel momento più buio della crisi del III secolo, con la moneta ex d'argento, che un tempo era quasi completamente d'argento, che ormai include solo l'1% di argento, cioè è bagnata nell'argento appena appena. E questo perché i prezzi sono fuori controllo. Secondo me questa cosa ha avuto più impatto, probabilmente, delle invasioni come segnale della fine del mondo. Immaginatevi un mondo che per secoli e secoli ha vissuto nella stabilità monetaria. Quattro secoli almeno nella stabilità monetaria. All'improvviso i prezzi aumentano e nessuno capisce perché. Tant'è vero che poi un effetto è che nell'antica Roma c'era un sistema finanziario abbastanza sviluppato, con banche, conti bancari, eccetera. Da quello che possiamo capire, durante la crisi del III secolo, tutte le banche falliscono. Questo vuol dire ovviamente che, immaginate, quando ci sono le banche, tendenzialmente l'attività economica è anche molto difficile. Alla fine le banche saranno rifondate da Diocleziano, da quello che possiamo capire, con capitali pubblici. Quindi di nuovo qualcosa abbastanza nota come meccanismo. Qui arriviamo quasi alla conclusione del nostro tour. E come conclusione il ponte romano, che forse è il simbolo principale della nostra città di Riedi, soprattutto della sua storia romana. Perché questo ponte poi ci permette di discutere anche di che cosa? Di come, mi ripeto, finisce il rapporto tra Sabini e Romani. O meglio, di come a un certo punto prevalgono i Romani in questa città. Perché nel III secolo a.C., 290 a.C. per l'esattezza, i Romani, guidati da Magno, Curio, Dentato, Console, che vi ho accennato prima, Curio, Gens Curia, quindi origini Sabine, molto altamente probabile, assoggetta l'intera regione della Sabina. Le popolazioni Sabine vengono assoggettate ai Romani in quel momento. Riedi diventa una città romana, una Civitas. Nel 290 è già attestato che Riedi diventa una Civitas sine suffragio. Quindi cittadini romani senza diritto di voto. Nel 268 a.C. diventerà Civitas Optimo Iure, con diritto di voto. Quindi i Sabini apparentemente vengono subito integrati all'interno del mondo romano. Ma i Romani, quando conquistano questa zona, vanno a modificare l'assetto geopolitico di questa regione in maniera fortissima. Perché dovete sapere che anticamente i Romani si sarebbero trovati davanti un mondo, una realtà molto diversa dalla Riedi di oggi. Innanzitutto perché l'insediamento di Riedi era un abitato che sorgeva sulla collina dove c'è attualmente Riedi, ma era completamente circondato dalle acque. Esisteva anticamente un lago, si chiamava Lacus Velinus, ed era un lago che ricopriva l'intera concareatina. Il motivo di questo lago in realtà stava proprio nell'acqua di questo fiume, perché l'acqua del fiume Velino è un'acqua estremamente calcarea, ricca di carbonato di calcio. Questo determinò che nei secoli, all'altezza del pianoro delle marmore, dove questo fiume andava a riversarsi sul fiume Nera, si andò ad accumulare uno strato calcareo che formò un banco travertinoso che tappò, bloccò, ostruì il passaggio delle acque, causando la ritenzione delle acque e allagando tutta la concareatina. I Romani questa cosa la capiscono immediatamente, che c'è un blocco. E loro attuano questa grande opera di ingegneria industriale, ingegneria idraulica, scusami. Ingegneria idraulica. Quello che noi ricordiamo come il taglio delle marmore, la cava curiana, scavano un grande condotto artificiale per permettere il deflusso delle acque e svuotare tutto il lago. Viene ricordata come la bonifica della pianareatina. Di fatto i Romani, dopo questa cosa, ottengono un terreno estremamente fertile, un terreno che poteva essere coltivato, poteva essere quindi anche tassato, una volta che si avevano i campi da coltivare. E questo era sicuramente l'interesse dei Romani e quello che poi dall'inizio alla romanizzazione di Rieti, perché a Rieti poi si stabilivano coloni. Se pensate che i soldati, i veterani, quando dovevano prendere la loro pensione, prendevano appezzamenti di terra. Questo però va a stravolgere il sistema economico reatino, sabino, antecedente, perché io vi ho detto che la rete è il simbolo di Rieti. Molto probabilmente i sabini erano un popolo di pescatori, loro vivevano dei proventi della pesca, avendo un lago così grande a disposizione. I Romani stravolgono tutto e decidono loro. Hanno vinto del resto. E nel fare questo poi costruiscono, riadattano la via Salaria, costruiscono la via Salaria moderna, costruiscono questo ponte romano, che è un monumento che è rimasto qui, e poi alla fine vi dirò anche che fine fa questo ponte, perché noi lo troviamo oggi rimasto qui, a fondato praticamente. Pensate, per chi segue il podcast di Marco, si dice che questo ponte romano fosse una copia esatta del ponte Salario che Totila distrusse. E qui vedo che chi segue il podcast scuole la testa. Bella questa cosa. Però adesso in realtà vorrei lasciare la parola a Marco per qualche approfondimento. Sì, è una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, quindi a sorpresa, è che c'è un esempio abbastanza simile in Abruzzo di un'altra opera idraulica, ed è quella del Fucino. Il Fucino era un lago, dove adesso c'è Avezzano per intenderci. Quello era un lago, uno dei più grandi d'Italia, fu svuotato, diciamo in modo simile, però costruendo una galleria ai tempi di Claudio. Scusa, questi purtroppo... I paparuni... Non sono d'accordo. Tra l'altro... Questo ero convinto che sarebbe successo. Perfetto. Tutti fuori onda, questo me l'aspettavo. Perfetto, viva i paparuni, sono fortissimi. Questo lago, quindi, fu quasi completamente svuotato ai tempi di Claudio, poi si ostruì il tunnel e si riformò il lago e fu di nuovo bonificato nell'Ottocento solamente dal principe Torlonia, fra l'altro riscavando i cunicoli di Claudio. Vabbè, volevo dirvi questa cosa perché mi è venuta in mente... Considera che quando si trattò di rivedere i canali perché si ostruirono i canali, riscavarono quelli. Esatto, quindi diciamo che ci sono delle costanti nella storia. Allora, vorrei parlarvi della Salaria, perché questa strada... Allora, noi la chiamiamo una via consolare, ma in realtà, come diceva anche prima Edoardo, non sono stati romani a realizzare la Salaria. La Salaria predata Roma. Come percorso probabilmente, secondo millennio avanti Cristo, circa 1200 avanti Cristo, era un percorso che collegava le saline... Ovviamente sappiamo che il sale è stata la prima moneta, no? E il sale è preziosissimo. Perché? Perché serve a non far andare a male la carne. Cioè, in un'epoca pre-industriale è una cosa molto importante. Il sale veniva prodotto in delle saline alla foce del Tevere, come avevamo accennato pure prima. La via passava dove oggi c'è Roma, e poi veniva qui in Sabina, e poi passava gli appennini, girava appunto di qua, passava gli appennini e andava all'Adriatico. Ora, un'altra cosa importante da capire è che noi siamo abituati a vedere la geografia dell'Italia in modo diverso da come la vedevano gli antichi. Cioè, per noi, l'asse principale è Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. No? La vediamo l'Italia in modo verticale. Invece, i Romani, siccome non avevano degli ottimi passi appenninici tra Firenze e Bologna, c'erano, ma erano disagevoli e molto alti, la vedevano l'Italia in modo diagonale. Cioè, il modo più agevole per raggiungere il Nord Italia passava per l'Adriatico. Quindi, bisognava passare... C'erano due vie principali. La Flaminia, che è forse... è ancora più importante della Salaria e diventa nel Tardo Impero, poi, che è la via che passa per l'Umbria e poi, attraverso le Marche, arriva a Fano, sull'Adriatico. Ma la Salaria è l'alternativa alla Flaminia e che quindi collega il Roma con l'Adriatico. Poi, una volta che siamo sull'Adriatico, non c'è più nessun passo per arrivare poi a Rimini, Ravenna, Milano, Aquileia, eccetera. Quindi, questo vuol dire che la geografia, anche umana, degli insediamenti era più spostata verso questi assi che passavano attraverso gli Appennini. Oggi non è così importante. Qui non c'è un'autostrada dove c'è la Salaria, mentre l'autostrada è l'A1 che va verso Firenze e Bologna. Voglio capire che i Romani, se avessero avuto l'autostrada, l'avrebbero costruita probabilmente qui, l'autostrada principale per andare verso Nord. E, niente, questo è molto importante e poi diventa importante anche durante la crisi del III secolo perché questi assi, Salaria e Flaminia, sono le vie di penetrazione per raggiungere Roma. e, a un certo punto, c'è anche il forte rischio che Roma venga presa. Roma non aveva mura, o meglio, aveva delle mura molto antiche, quelle serviane che erano state sopravvanzate dalla città già durante il periodo tardo-repubblicano, quindi non avevano nessuna funzione militare. e, diciamo, all'inizio del regno di Aureliano una confederazione germanica penetra attraverso le Alpi e, dico, le strade romane in questa fase da un punto di forza per Roma diventano un punto di debolezza perché permettono anche il movimento molto rapido degli eserciti. e questo è il motivo per il quale poi Diocleziano andrà a costruire tante fortezze perché in questo modo si frammenta la geografia anche se penetri, non penetri più a fondo. Aureliano affronta la confederazione germanica, Alemanni ed altri vari, nei pressi di Piacenza viene sconfitto e questi arrivano nel Piceno quindi abbastanza vicino a Roma si comincia già a... c'è il panico generale. Aureliano alla fine riesce a raggiungere la confederazione e a sconfiggerli ma lo spavento di questa invasione che è arrivata a pochi giorni di marcia da Roma, una Roma indifesa porta Aureliano a costruire le famose mura aureliane che esistono ancora oggi a Roma che sono costruite nella tecnologia militare del III secolo e poi vengono aggiornate nel V secolo da Stilicone con quasi tutte le porte romane sopravvissute sono state rifatte da Stilicone per rendere, per aggiornare diciamo tecnologia alla tecnologia del V secolo che era andata ancora più avanti rispetto a quella del III questo ci tengo a dirlo perché spesso pensiamo a decadenza ma in realtà le mura erano più forti di quelle del passato. Una cosa interessante che i romani all'inizio intendono la cittadinanza come una punizione. Allora spiego, questa cosa per me può sembrare assurda Allora, il concetto di appartenenza a una città viene da essere cittadino di quella città e avere le leggi di quella città cioè avere proprio le regole anche la legge, diciamo per esempio per le transazioni economiche c'è la legge di Rieti, mettiamo e poi ci sono gli dei di Rieti questo ti rende cittadino di Rieti avere la tua città, avere la tua legge, avere i tuoi dei i romani quando si alleano con un popolo lasciano, nella fase iniziale dell'espansione romana in Italia lasciano le leggi e la cittadinanza della città viene considerata una cosa positiva perché sei un alleato se invece sei stato conquistato impongono la cittadinanza romana perché ti cancello l'indipendenza ti tolgo le tue leggi adesso devi usare le nostre leggi ti tolgo i tuoi dei adesso devi usare la trilia del Capitolina quindi è una punizione questa cosa, diciamo fino al secondo secolo avanti Cristo è percepita così a un certo punto però Roma inizia a conquistare tutto il mondo mediterraneo essere cittadini romani è un privilegio quindi quelli che non hanno la cittadinanza romana tra gli alleati italici tra l'altro oggi gli storici parlano di confederazione italica cioè più che di Roma perché Roma con i suoi alleati gli alleati latini sono tre livelli cittadini romani, cittadini latini e alleati soci gli alleati a un certo punto chiedono di avere la cittadinanza romana questo è l'inizio del, diciamo, della fase direi della vera crisi della Repubblica cioè fino a questa data la Repubblica aveva avuto solo dei sommovimenti di politica violenta al tempo dei Gracchi ma non una vera guerra civile la prima vera guerra civile della confederazione italica è quella degli italici che si ribellano per avere la cittadinanza romana perché il loro rappresentante a Roma viene assassinato e a questo punto decidono di ribellarsi e se vi ricordate ho parlato di Corfinio Corfinium nella Valle Peligna viene decisa come capitale degli italici contrapposti a Roma e viene battuta anche la prima moneta la prima prova provata dell'esistenza della parola Italia cioè noi sappiamo che esisteva ma la prima prova provata perché la moneta degli italici ha scritto sopra Italia quindi spesso quando mi si dice la storia d'Italia perché io ho un po' di storia d'Italia ma perché non gli ultimi 150 anni perché l'Italia esiste da 150 anni più o meno io non sono d'accordo per me l'Italia forse la data di inizio dell'Italia è quando appunto in seguito alla guerra sociale Roma alla fine è costretta a dare la cittadinanza a tutti gli italici almeno della penisola poi verrà estesa anche a quelli della Gallia Cisalpina cioè del nord Italia ma è lì che si crea veramente un'Italia già unita per concludere il nostro viaggio e lasciamoci un attimo Roma alle spalle noi siamo ritornati sul viadotto questo era il nostro punto di partenza siamo ritornati sul viadotto e ora però lo rivediamo in un'ottica medievale perché abbiamo parlato proprio di espansione la città si espande e oggi noi ci troviamo in realtà in un'ambientazione che non è molto diversa dall'ambientazione medievale perché se noi ci provassimo a immaginare il viadotto nel medioevo voi dovete immaginarvi tutta una serie di archi arcate arcate come quella che vedete lì che è messa in evidenza in quel palazzo la via Roma antica nel medioevo la via Roma medievale il viadotto si chiamava strada pontis strada del ponte o di ponte che andava verso il ponte ed era composta da palazzi che avevano tutta una serie di arcate che poggiava su colonne colonne come questa il dettaglio che notate in queste colonne è che sono tutte diverse tra loro perché erano colonne di riciclo colonne romane prese smontate dal luogo originario e messe come appoggio per i palazzi una sola cosa relativa all'alto medioevo che io ho coperto nel podcast su Rieti ora nel diciamo nel sesto secolo l'Italia all'inizio del sesto secolo è ancora un paese sostanzialmente antico abbiamo un governo da Ravenna che governa tutta l'Italia una struttura che è molto simile a quella dell'impero però è governata da da un re goto quindi da Teodorico il quello che accade è che i goti vengono stabiliti in Italia da Teodorico con l'aiuto di un senatore romano che farà una carriera straordinaria di nome Liberio una parte di loro evidentemente viene stabilita qui lo sappiamo perché lo sappiamo grazie a un rarissimo documento che è stato ritrovato a Rieti e che testimonia una controversia legale data qualche anno dopo la fine della guerra cosiddetta guerra greco-gotica la guerra che contrappone l'impero romano conosciuto anche come impero bizantino giustiniano contro i goti anzi il re il diciamo si potrebbe anche dire l'impero occidentale ma il regno di Teodorico e dei suoi successori i goti però non scompaiono i goti sono proprietari terrieri e noi sappiamo che alcuni goti passarono al servizio anche di Narsete che è il generale di Giustiniano che porrà fine alla guerra la controversia legale riguarda tale Gundahals una vedova probabilmente di un di un importante importante goto che si lamenta presso il tribunale di Rieti quindi notate questa cosa i goti già a metà sesto secolo già fanno riferimento alla struttura delle leggi romane quindi al tribunale di Rieti perché in realtà tre connazionali si potrebbe dire stanno sottraendo le stanno sottraendo della terra si chiamano per la precisione vi dico i nomi Aderid Vir Illustris adesso vi spiego cosa vuol dire Rosemud e Gundemund che è un Vir Magnificus allora i titoli di questi due goti Vir Illustris Vir Magnificus ci testimoniano che le persone che stavano cercando di rubare la terra Gundahals erano degli ufficiali probabilmente militari al servizio di Narsete e quindi sappiamo questo ci dà l'idea di come tutto cambi ma spesso le cose restano nel tempo cosa quindi è accaduto a questi goti probabilmente sono tutti morti sono emigrati sono andati via che è successo a questi goti che si litigano la terra beh una cosa che sostengono il podcast è che i goti siamo noi nel senso che queste persone ovviamente col passare delle generazioni sono diventati cittadini di Rieti erano già in realtà cittadini di Rieti quindi chissà magari qualche discendente di Gundahals è ancora qui insomma quindi volevo dirvi questa cosa sull'alto medioevo faremo con questa conclusione genetica io farei un applauso a Marco Cappelli e adesso andiamo tutti in libreria per chi vuole farsi firmare il libro grazie a tutti voi per essere stati presenti a questo evento chi non ha ancora conosciuto la nostra associazione Rieti vi invitiamo a visitare anche il nostro sito perché noi organizziamo tante altre cose tour virtuali avete visto un assaggio c'è anche molto altro che da vedere diciamo mettiamola così io farei un applauso a Rieti veramente veramente bravi complimenti per la passione l'uso delle tecnologie molto apprezzabile veramente veramente complimenti e ci vorrebbe in tutta Italia una cosa io in quanto divulgatore io sono così contento quando posso trovare delle ricostruzioni accurate dei vari periodi storici vado in visibilio vedere un posto e poterlo vedere nell'antica Roma poi nel tardo nel tardo antico poi nell'alto medioevo poi nel medioevo non tutte le città italiane hanno una cosa del genere questo è merito vostro complimenti